Ma vedo un uomo al centro del campo Chissà chi è Posso dire che mi era mancato tantissimo questo momento Prego la regia di andare da il general manager No, puoi rifare che ti giri per favore Sì, non abbiamo visto bene le spalle Eccolo lì Le tenebre sono già scese Per una squadra che abbiamo già conosciuto Abbiamo un nuovo innesto Non sono stati visti benissimo da parte della nostra chat Per la prima volta si sfideranno Tre punti in palio Ma il punto più importante è il vostro cuore Diamo il benvenuto alle due squadre Eternals e Muchachos Ah, che spettacolo, eccolo qua, grazie Mamma mia, mamma mia Mamma mia Con la sigla della God League Io ti dico la verità Non vedo l'ora di trovarla anche su Spotify e Instagram Perché mi dobbiamo sempre usare quella là della Serie A Che neanche dell'Aureno Mi posso farlo, mi posso farlo spoiler Sì Nooo Guardalo lì, ma in me Allora, leggiamo le formazioni Abbiamo cambiato tutto qua Eternals, che sono ovviamente 12 giocatori come tutti gli altri Con il portiere che è Connaghi Poi Bonolo Il numero due Brivio, Davide Brivio Ex calciatore Montaperto Nick Pirlo Galli Coppola Gunter dei Footwork Gunter, Gunter però Scusami se ti interrompo Ma Gunter oggi non c'è Quindi da domani Gunter Ok, Gunter oggi non c'è Vasco, Prealpi Titolare Che c'era appena preannunciato Pata E poi Pata Guarnaccia E Pasariello Attaccante preso dal draft Mentre i Muchachos Con Di Lillo in porta Kitz in difesa Santa Croce Kitz detto Vultag O Vultag Roscioli Calzone Piotodisco Chianese Procentese Fino a questo momento Sembra un menù di una pizzeria Sì, sì Rosa Battista Fuse Gamer Stoiclin E Migliorati O Migliorati Per in base a come gioca Lo chiamiamo così E ovviamente in panchina Da una parte Mister Antonio Fusco Dall'altra In ritorno La Nemesi di Manfre Mister Umberto Chiaramonte Ma Umberto c'ha il sigaro oggi? Ce li ha Ma non dentro le scarpe Eh, quello fu un gran numero Allora, intanto Vediamo i capitani ragazzi Che stanno Prendendo le loro carte Le carte Io posso dire Che dalla prossima edizione Vorrei che iniziassero A spoilerare anche le carte Sì Almeno a noi Tipo poker Non le sappiamo noi Almeno a noi Tipo poker È presente che tipo Bravo Che le vediamo noi Perché così la chat Può anche dire Gioca la carta Che stai in meno Gioca la carta Che Per un pericoglione Non so come fanno le chat Comunque arriviamo Stavo leggendo un attimo La descrizione Di Wellington Fabiano Santa Croce Ex Napoli Lui ha fatto anche un video Musicale con zucchero Lo sapevi signor Pancio? No Vabbè Abbiamo dato Le daremo a pillole Queste grandi cose È tutto pronto Le squadre sono lì Chiedo ai presidenti Come partono Da una parte C'è Santa Croce C'è il capitano Quindi Poi chi partite? Partiamo con Kitz Stoklin Santa Croce Poi c'è anche Carlos Savanti Poi non vedo qui Dall'inquadratura C'è sì Carlos Ma Chianese sta bene Lo vedo Sì 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 Ha fatto un carico Di hot dog Quindi sta super in forma Vai io E invece Nella post squadra di ZV Parte con Nick Pirlo Che tra l'altro Ieri ha lanciato Il suo brand di vestito Eccolo da vedere Ce l'ho io Pata Pata Guarnaccia Colnaghi Brivio Vasco E Calulu Attenzione partiti Attenzione Jay Pata Perde il primo sconto Amma mia Kitz Ma chi è? Vabbè ma Pata Si è spostato Per non farsi male Dai Ma Pata Sicura qualcosa da fare Alle 17 19 Quel che l'è Si riparte Quindi con la Got League Terza partita di giornata Mucciaccio Scontro Eternals Amma mia Ma Vasco gioca davanti Ragazzi Lui ha chiesto Sai cosa Vi posso fare questo Certo Questo dettaglio Lui ha chiesto al mister Mister ma tu mi vorresti Più come Ernan Crespo Numero 9 Oppure come fantasista Come Messi ai tempi Del Barca Diciamo che forse Si sottovaluta Ragazzi Se segna Vasco Esplode lo stagio Io ragazzi vado Se segna Vasco Ci segna anche la chat Occhio a Santa Croce Santa Croce Si vede Che ha giocato Mamma mia Millimetri Con il lancio Di Santa Croce E allora Però Non ha Non è saputo rimanere All'altezza Il compagno Perde subito il pallone Nick Pirlo Sembra che sta facendo Un po' un favore A giocare Chi? Nick? Eh no Ma lui ha sempre Quella Bello da vedere Molto bello da vedere Nick Pirlo La calma È la virtù dei forti No? Quindi? Quindi Si accalmi Si accalmi Col Naghi Poi Giro palla Per gli Eternals Che devono Anche un po' Riscattare La precedente Competizione Usciti in semifinale Con un po' Di polemiche Tanti strascichi Hanno perso Il cruz È una formazione Che è tutta da scoprire Questa Hanno perso anche Il bomber Come che si chiamava? ZV? Ah il Brudi Il Brudi Il Brudi È rimasta sempre Quella roba lì Comunque patta per Alpi È un attacco strano Eh Occhio Ma in play Qui non l'avete mai trovato? Occhio alle vostre figlie No Allora Santa Croce Santa Croce Imposta per i Mucciacios Altro pallone in verticale È già il secondo Per i Mucciacios Più organizzati di Eternals Che lanciano anche loro a Casaccio Quindi È un'organizzazione un po' Da rivedere Per il bravo Le squadre Due squadre Che non hanno mai giocato insieme Un po' si vede Pasco è carico Lo vedo dal passo Sì Omi Possesso Pala Altro lancione Questa volta però viene Non è male Perché prova ad inserirsi Ancora con il suo destro Ci ha provato Calzone Calzone Tipico nome anche lui Del bergamasco Immagino Tipico nome Antonio Calzone Sì sì Proprio Quelle zone qua Mecenate Lodi E allora Si ricomincia con Nick Pirlo A gestire questo Pallone per gli Eternals Nick Pirlo Ha fatto il record A corso 10 metri Quindi è già un record Per lui Oggi In questo match Allarga la palla Per Guarnaccia Bello Guarnaccia ti riempie proprio La bocca Come con il Guarnaccia Detto così Nick Pirlo Jay Pata Quanta qualità Per gli Eternals Ecco comunque fanno girare Palla meglio Si si vede che Più Più tecnico Poi tra l'altro Gli Eternals ragazzi C'hanno Brivio Che è il numero 3 Che ha giocato Parte la E c'è il gol E non è anche riflettori Gli statistici Già di lavorare Qua viene anticipato Da Chianese Che fa Vazio Non ho voglia E allora Stucklin Quattro minuti alla ruota Signori che potrebbe Infiammare la partita Non abbiamo ancora visto Un due contro due Poi Chianese Che spara altissimo Primo tiro No non è Chianese Non è Chianese Non è Chianese Scusate È Stucklin Stucklin No come no Gian Maria Stucklin E non è di Napoli Sì 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 È un cugino No no Infatti Ci stavamo preoccupando È il cugino di Di Crispo Anche lui È tipo un napoletano Irregolare Potrebbe essere L'outsider nascosto Dei Mucciacios Leggo addirittura E per ora Ha rotto soltanto Una macchina parcheggiata Nei pressi Del centro sportivo Calciando La letta è fuori Occhia Santa Croce Vediamo ancora Con Santa Croce Che non è Poi Nick Pirlo Anticipa tutto Jay Pata Prova a mettere ordine Ma Santa Croce Se lo mangia Venenza Se lo mangia Aspettate Siamo col mister Degli Eterna Si aspettava questo vantaggio Così presto No assolutamente È stato sorprendente L'assist di Vasco Vasco è il nostro uomo assist Mamma mia Grazie mister Chiara Monta è in difficoltà Rischio esonerò anche qui Ancora Guarnaccia Per Vasco Che prova un pallonetto Forse aveva ragione Omi Assomiglia a Totti Proprio per lo scavetto Per la proprietà Cazzatissimo La cerca Sta creando tutto lui Praticamente Perché noi vediamo Che Santa Croce Si sta proponendo Sull'auto di sinistra Se lo sono dimenticati E allora provano I muchachos Non crossano però Decidono di mantenere Il possesso palla Tra tre quarti Con Stocklin Che si propone Stocklin Mamma mia Posso dire Posso dire Che lui Mi ha ricordato Un po' Uno Stockton Tumalone Del basket Cresciuto Nelle giorni Della Juve Stabia E della Real Aversa Che salutiamo Uno a uno Quindi tra Muchachos E l'Eternals Mirko sei contento Di come sta giocando In partita piano piano Ovviamente La prima volta Giochiamo tutti insieme Quindi dobbiamo Un po' Vedere il tutto Però già questo Quello potrebbe Sbloccare un po' Mentalmente i ragazzi Quindi Speriamo di no No Speriamo di sì E vediamo cosa dite Il mister Mister È stato l'inizio Un po' timido Un po' troppi lanci Però appena abbiamo Giocato un po' più La palla a terra Uno a due Siamo arrivati in porta Conclusione al Parigio Quindi Continuiamo Quindi Continuiamo Così Dai Dai maizzo dai Sempre più lontani Dalla ruota Perché Come potete vedere I minuti Sono sette Sono passati E sette Abbiamo invertito Abbiamo invertito Sì L'abbiamo messo normale Esatto Non è più al Al contrario Esatto Nick Pirlo Nick Pirlo Vasco Vasco prova ad inventare Vasco protegge palla Magistralmente Allontana però Chianese Ancora Stockelin Che stavolta sbaglia il tocco L'autore del gol Dell'1-1 Che ha giocato Anche nel Nella nocerina Tra le altre Tutti le limiti Per Napoli Dai praticamente Pata Altra simulazione Però Giustamente Viene pagato Per Fischiare E quindi Sarà calcio Di punizione Per gli Eternals Mi ricorda Un po' di Bala Pata Eh sì L'ultimo di Bala La Vol Bata è Vasco Cos'è? No Mi sta disegno Ragazzi Attenzione Perché Vasco È la zolla Di Vasco Prealpi Vediamo se Pata Chi la lascia Parlottano i due Vasco Prealpi Jay Pata Rozzano Attenzione Vasco Sta parlando Col mister Che dice Spostati È uno schema È uno schema È uno schema Quindi sarà Jay Pata Certo che con Pirlo E Brivio Le batte Pata Che ricordiamo Non ha mai segnato Su punizione E infatti Conferma la regola E poi decide Di sparare Direttamente Perché gli dava fastidio Dalla bandierina Nel calcio d'angolo È una bella rasoiata Una bella rasoiata Dico una roba Pata Per la prima volta Non mi sembra Che gli dia fastidio Giocare No è vero Non abbia voglia Questa sera Non è più un favore Tranquillo Guarda che qua Il presidente Ha messo le mani Sarà arrivato Il cash giusto Io non ho dato un euro Io Non ho dato un euro Eccolo qua Jay Pata Rientra Eh sì Sembra Di Bala È vero Spinto anche Da Stocklin Sai che stiamo Sottovalutando Secondo me Il numero nove Di Mucciaccio Ragazzi sappiate Che anche per noi Sono tante squadre nove Nuovi Carlo Scaia Carbaglio Rosa Battista Secondo me lui Non è napoletano No lui è brasiliano Qui a Milano Lo scopriamo anche noi oggi Amico anche di Fabiano Quindi siamo fidati molto di lui E speriamo che ci porti qualche gol in più È un grande amico di Jeda Sì Lui gioca a calcio Sua spiaggia A beach soccer Eccolo qua Proprio in possesso palla Proprio lui Sul plus Prova ad andare col tunnel Ma è lì quello lì Si ripropone Attenzione Cross In mezzo È un tiro cross Poi salva tutto col Naghi E allora Jay Pata Tutto campo Sgasa Centrocampo Allarga il pallone per Prealpi Lo riconquista però La squadra Posso dire che Pata Alla Got League Nell'addizione estiva Non ha fatto vedere niente Eh Letteralmente Bravo Giammarie Occhio Giammarie Occhio Giammarie Bella Mamma mia È stato Prorompente No L'abbiamo regalata Nick Pirlo Spazza via il pallone Occhio O ancora i Mucciasos La davanti Grande chiusura qua Degli Eternals E lo fanno con guarnaccia L'autore del gol Ragazzi ma questo è Brivio Quello che giocava all'Udinese Eh bro Sì Minchia Ma ragazzi Saltiamo tanto Jay Pata E abbiamo un fenomeno in campo Ma ti ho detto Ti ho detto Ci sono Cioè Pirlo e Brivio Mamma mia Nick Brivio 5 gol in Serie A In 121 presenze Attenzione Ancora la conclusione Da parte di Calzone Sai cosa Stiamo Todisco Ci avrebbe un cambio Ci avrebbe un cambio Eh no ma infatti Vedo un po' Attenzione però Ancora si muove qualcosa Là in panchina Ricordo che Il mister non sta facendo Niente Non toglie neanche Pasco Spero che non mi senta Cambio No no Entra Migliorati Entrato Allora Ah Migliorati Lui è uno dei migliori draftati Ragazzi Non ha caso Ha quel cognome È più veloce È il più veloce È il più veloce di tutti Sì 9-0-3 In 100 metri Più di Usain Bolt Che ha il raccord del mondo Di 9-58 Eh no Scherzi a parte Allora vediamo Con i muchachos Che provano ad andare Proprio con Migliorati Il più veloce di tutti Santa Croce Pensa alla conclusione La prova La prova La dimenticare Beh non è mai stato famoso Per questi palloni Assolutamente Si sta scaldando Il 2004 Napoletano Attenzione Raccontacelo un attimo È un nuovo innesto È un nuovo innesto Che comunque Draftato Draftato Non l'avete messo Perché lui non voleva giocare Contro il Fuse Gamer Essendo Napoletano Non l'avete ancora No no Non l'abbiamo messo Perché comunque Abbiamo il nostro uomo chiave L'impunta Lo vedo un po' stanco Lo vedo un po' stanco Occhia Pata Però la palla è per Privio Privio ancora Pata Che gol Jay Pata Jay Pata Si scrive al cartellino Si sblocca di testa Jay Pata No non è vero Pata Pata 2-1 Piegate a Pata Che le camere sono di qua Venga a fare l'esultanza Come se l'avessi appena fatto Ah vabbè pure lui A tutti con la stessa esultanza Il magro Il magro Ci dedichiamo la bacchetta Io il magro Sai che sono anche io di Rozzano Rivediamo il replay Rivediamoci il gol Grande sponda Grande conclusione Poteva fare forse Qualcosa di più Mirko di Lillo Eh si Purtroppo Due minuti alla ruota ragazzi È entrato Matthew Assist di Privio Che si è trovato in punta comunque Attenzione però Perché non è finita La possibilità per Passariello Anche questo ti riempie bene la bocca Passariello No con un S Pasa Pasa Pure io sbagliato Passariello Passariello Però noi qua c'è scritto con due S Eh scusate Eccolo qua Pata Attenzione Chiede calma Guarnaccia Io lo chiamerei Jay Perché Ora è visto in tante salse il suo nome Per cui lascerei Jay Così diamo Vedo che in chat Tra l'altro Hanno una certa fantasia Parte un pallonetto Lo controlla di Lillo Abbiamo fatto un attimo riposare Vasco Attenzione ragazzi Stop Carta Di chi? Attenzione Carta 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 Farò tirare a questa persona qua Andrew Del Fuse Game Guarda Mirko Mirko piange Mirko davvero fratello Mani nei capelli Andre smentiscici per favore A tutti quanti Attenzione I muchachos Hanno l'opportunità In questo momento Di ritornare In parità Però posso dire una cosa Guardate la cazzimma Con la pettorina Eh Non giocherà mai Deve levare la pettorina Obbligatoriamente Perché sennò È uno qualsiasi Oh mi fagliela togliere Beh lui non C'ha il dieci Un brutto gesto Ricordo che Non potrebbe averlo Eh Perché Perché no? Ah No 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 Ricordo Ricordo Tu sai A te piacerebbe però Rivedere un giocatore Con il dieci al Napoli Secondo me Dovrebbe scadere Dopo qualche anno Politano Che è tipo politano Bravo Ragazzi A dieci non si tocca Vabbè Zelischi col dieci Non bestemmiamo Vara col dieci Non lo vuole vedere No grazie Prego Non parliamo di quella cosa noiosa Andiamo qua Quindi Fusegamer contro Kulnaghi Vai Andrei vai Può riaprirla Quando comunque manca Allo scadere anche del primo tempo Passo Clamorosamente Da fuori classe Per Fusegamer Parte la conclusione Palo Palo non è gol Palo non è gol Direbbe qualcuno Che culo Si rimane Uno a due Incredibile Però l'ha calciato bene Almeno ha preso la volta No no l'ha calciato bene No ma il trucco secondo me raga È tirare prima di arrivare al portiere Così al massimo dici Sono stato sfortunate Capito Per evitare le figuracce Eh sì A testa alta dai Si rimane quindi Due a uno per gli Eternals Di ZV Jackson È scaduto il tempo Immagino che c'era qualcosa da recuperare È assolutamente Prima della ruota Vediamo Lui che sta facendo Un occhio Oh mio Dio Che ha fatto Mamma mia Che giocatore Visto Multaggio Kids Mamma mia Kids Ma che ha fatto Antonio Calzone Mette dietro Nick Pirlo Inestirata Riesce a riconquistare il pallone Ed è dall'altra parte Per Paz Ariello Santacro Di qui non si passa Brutto gesto Brutto gesto Da parte Fender Brivio Il gesto che piace a noi E ammunizione Addirittura No brutto gesto Perché insomma Hai detto Ma non ho fatto niente Ah Senza neanche dare una sbella Come l'Italo No Come una roba così Ammunito chi Ammunito Ammunito lo sport Chianese Questi fogli Patrizio Chianese ammunito Gli sono Potrebbe essere l'ultima azione Pata E poi la ruota Ancora Pata Ancora si ostinano a far tirare le punizioni a Pata Di potenza 45 Sono i passi contati Parte Jay Pata E Vabbè ma Noi non dobbiamo nemmeno più esaltarci Quando lo vediamo lì Non sa superare Noi possiamo andare da Omi Possiamo andare da Eccoci Eccoci Finisce quindi Il primo tempo di One Eternals E allora andiamo proprio Da Omi Intanto ci rivediamo un attimo Vediamo infatti Così capiamo anche Che è stato ammunito Del giovanissimo 2004 Grande Anche da ammunire Mi sembra Ma E' ridicola da parte dell'arbitro Andre andiamo con la ruota Per il recupero del primo tempo Vediamo cosa deciderà Dio La ruota La ruota Power by Sisa Fan Club 2024 Deciderà che Vediamo Io non guardo Ho sentito Diretto Super santo Super santo Bello Mamma mia Bello dai Bello Allora ragazzi Chissà magari ora pata con una punizione arriva in porta Allora lo dico prima Questa è rischiosa Mamma mia No dico Potrebbe essere un'idea di merda Però Potrebbe anche essere il cambio del mondo No 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 va che bello Va che bello il pallone L'arbitro intanto dà dimostrazione Non ci credo E traversa Traversa dell'arbitro Ma il super santo si entra in campo Allora ragazzi È una palla leggerissima Leggendaria Leggendaria Con la quale tutti abbiamo giocato E però Non è che facevamo una partita seria Sono quelle cose con cui fai Diciamo i due tiri a casa Con i tuoi amici Io qua se fossi il mister metterei Vasco Eh È vero Attenzione ragazzi Arrivano delle direttive Il mister però Sta Facendo il menù per stasera Perché ha già fame Mamma mia Ma sai che veramente può cambiare Perché qua sta Veramente vola come palla Sì Comunque Adesso Omi Tu che sei a bordo campo Il vento com'è Che noi qua siamo coperti Il vento è quello di guerra No No Non c'è vento Non c'è vento Però essendo Essendo Essendoci l'aria In questa atmosfera Della pianeta Terra Dobbiamo capire Che l'attrito rallenta Il tocco del pallone Mister Non puoi entrare in campo Che dice Che dice che era molto Non giochiamo la via sta palla E poi tutti No Allora per favore No in cronaca Io sogno adesso Un contrasto di quelli veri Col Super Sanse No no Poverito Ma quelli di tipo Calcio Ritorno verso la porta Il pallone è bucato Vediamo Vediamo se ci danno retta Partono Attenzione Attenzione È bello eh Boom Ah Solo caviglie Solo caviglie Madonna ma come si fa Il pallone è bucato Ma cos'è sta roba Santa Croce Allontanata il pallone Eh vabbè Ancora non ha toccato terra La palla Oh Ma che idea è pancio Pancio che idea è Eh ragazzi Ma noi siamo qua Per provare a cambiare il calcio Ragazzi Via Ragazzi le luci le stiamo accendendo Le stiamo accendendo Si stanno scaldando i fari Ragazzi Oh è vivo E questo è un grande lancio E poi viene riconquistato Il pallone da Di Lillo Mancano solo i suoni di paperissima Con questo pallone Allora Vediamo La conclusione La prima conclusione Storica della Got League Con il Super Santos È da dimenticare Avevamo dubbi Io vi dico che secondo me Una punizione Con il Super Santos Spata la segna È quello che dicevo Io ho piacento all'ora È l'unica occasione Pensa Moschardelli Con il Super Santos Vediamo ancora La squadra dei Mucciaccio Sgon è migliorati Riconquista però Jay Pata Bello così Guarda come va Perché il rimbalzo Non lo sai dove va Lo sceglie lui Non è male Non è assolutamente male Prova a conquistare quindi Un fallo Niente Pata Ariello Quando c'è il Super Santos Non ci sono i falli No Perché poi la gente non crede Parte la conclusione Palo È Grande Grande occasione Per Mucciaccio Mani Attenzione perché ci potrebbe essere un VAR Chiama Forse fallo di mano Non lo so Vedo Chiaramonte Che si sta lamentando No In chat piace Comunque Ricordiamo che la palla è enorme Cioè È il triplo di una palla normale Non so quanto l'abbiamo gonfiata Passaggio a raso terra Ed è ancora Mucciaccio Poi riconquista La sfera La difesa degli Eternals Che sono in vantaggio 2 a 1 Quando sono passati Due minuti dopo il giro della ruota Oddio Attenzione Uh Cucchiaio Cucchiaio Alla fine del Primo tempo Primo tempo E di questa ruota ragazzi Ma si può fare che Tutto il torneo così No No Che sia infattibile dai Santa Croce Ed esterno Palla eccezionale Per calzone Antonio Proprio lui Mamma mia Che va col Mancino Poi deve uscire col Naghi 20 secondi al termine Che poi tra l'altro La palla così si usa Anche quando c'è la neve Non credo sia il Super San Però il colore è quello Eh sì sì La palla arancione No Santa Croce Di punta Eh si è adattato al gioco Eh fa bene Poi parte una conclusione Di Matthew Che ha un tutore E finisce Finisce qua Questa agonia 3 minuti Possiamo dire Posso andare con il migliore Del primo tempo Vasco Andiamo subito da Vasco Allora regia Seguiamo Andre Vasco Un buon primo tempo Poi il mister Ti ha tolto Secondo te Perché ti hanno tolto Dopo comunque Un assist Perché Rendevo Pochi minuti Oggi Mi sei un po' Un jolly da usare Comunque andava Perfetto Ma ti rivedremo Ti rivedremo in campo Sì Criptico Parole forti Sappiamo che Vasco È guerra aperta Contro il mister Andre Andre ti posso chiedere Finché sei lì Se puoi andare No dall'altra parte Da Andrew Sono qui Dove devo andare No da Andrea Dei Fuse Gamer Che volevo sapere Come stava Insomma ha sbagliato Lo shot out Volevo capire un attimo Come la stava vivendo Mi sa che stanno facendo Tatticismi Il problema Di questi tatticismi Non ne vediamo Di tattiche comunque Andrew Tanto Andrea non gioca Vai Un Secondo me è un buon shot out Nel senso Un bel rigore Peccato Per il palo Però Secondo me Avendolo visto Non potevi fare di meglio C'è andata solo Ti richiederla lui Maomi sta cercando Di ricostruire l'azione Perché in realtà Non se la ricorda Sì Io Non potevo fare di meglio Già il palo E tanta roba Avevo un colosso davanti Devo dire la verità A un certo punto Ho pensato di fare il palonetto Ma dove va Andre ma l'avevi già pensato Prima di non scartarlo E tirare O In freestyle No no Ad un certo punto L'ho visto davanti a me Che usciva L'ho visto quasi fuori l'aria Fuori all'aria Ho detto Ma faccio il palonetto Però Ma gli faccio il cucchiaio Peccato E il destino Poteva essere diverso Ma questa è stata La scelta del fato Beh è chiaro Oggi Mahomi È diventato un poeta Presidenti Cosa ne pensate Questo primo tempo No no Soprattutto la partita del Super Sanso Mi è piaciuta È piaciuta Sì sì Abbiamo un po' paura È un po' giocabile Però alla fine È un malus per entrambi Quindi va bene Risultato per me Leggermente bugiardo Perché abbiamo giocato bene Con quel primo tempo Forse era da X Era da X Era da X Era da X Loro hanno ancora la carta Vediamo un po' Quando la giocheranno Ti posso dire una roba Secondo me Deve avere un po' più spazio Todisco Che mi piace tantissimo Chi è Todisco? Lui è anche giocatore A numero due Molto forte ragazzi Todisco Molto forte Le squadre ragazzi Si stanno rimettendo a posto Penso che partano Con quelli che hanno finito Il secondo tempo Vedo Chianese De Neymucciato Spedometti Todisco Lo vedo Todisco Guarnaccio Garnaccio Garnaccio Ok però negli anni Mi esalta proprio Garnaccio E' il Carlos Scaia Carvaj Rosa Battista Cioè dovessi segnare lui E' Riparte quindi con il secondo tempo 2-1 E' una scheggia ragazzi Ricordiamo che solo Usain Bolt Può competere con lui Con il numero 12 Preso dai draft ragazzi Migliorati il più veloce di tutti Potrezz Vito Voltaggio Chiz Tra l'altro migliorati Un 5 stelle ragazzi Che parte dalla panchina Per far giocare i cugini di Crispo Poi ci chiediamo il motivo Matthew contro Jay Pata Tutore contro tutore Si ricomincia quindi Con un secondo tempo Dove i muchachos Devono per forza Anche essere forse Più precisi sotto porta Perché come diceva Mirko Le occasioni le hanno create Hanno creato gioco Però poi Non so Pancio E' mancato quello spunto finale E' mancato il bomber Quello che doveva essere In realtà Carlo Skaia Carvaio Rosa Battista Che bravo il giovanissimo Adesso è veramente Non c'è Speriamo Immigliorati Calcio di punizione Vabbè Direi pubblicità Perché tanto la batte Jay Pata Quindi possiamo anche Ma io gli dico Ma non si può fare un po' a rotazione ZV Eh ragazzi è capitano Numero 10 In campo decide lui Non gli posso dire niente Vediamo quindi Sarebbe bello vedere La punizione da questa inquadratura Guarda come studia la barriera Per cercare di capire dove prenderla Ma non è troppo vicina la barriera Guarda il portiere che dice Dalla prossima ne metto due In barriera Una prospettiva Vediamo Pata già si lamenta Prima del tiro Parte la conclusione Una telefonata Letteralmente A Mattia Di Lillo Però almeno per una volta Però almeno l'ha superata L'ha superata È vero Sì c'è passato di fianco In realtà Si è spostata la barriera La prima volta nella storia Kitz Per i muchachos Todisco Ma come todisco Kitz Oh fallo Chiede il fallo Mirko Se lo prende Fallo di mano No Calcio di punizione Per i muchachos Calmi ragazzi Calmi Giochiamo come sappiamo Pallone che viene Rilanciato Dalla parte opposta Attenzione i muchachos Che provano ad andare Con la conclusione Bravo Bravo E la grande risposta Da parte di Colnaghi Calzone Ci ha provato Bravissimo Calzone Antonio Calzone Centrocampista Preso dai draft Cugino di Crispo Cugino di Crispo Parto di cercare Matthew Che non ci arriva Non ci ha neanche Creduto troppo Matthew Giocatore preferito Di calzone Comunque a Ronaldinho Un po' Un po' ci assomiglia Dai Come gioco Ho esagerato Jay Pata Finalmente L'hanno capito Lo mettono in difesa Perché davanti Sta facendo solo danni Allora gli Eternals Ok a Brivio Prova a proporsi Sull'auto di sinistra Con Brivio Poi Coppola 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 Si allarga Metto Mezzo Coppola Spook Come un fantasma Grande risposta Di Di Lillo Ha la parata Un palo È un po' tutto Prova a non uscire Mucciagos Kitz Contro Jay Pata Matthew Di fianco a lui Bravo C'ha spazio sulla tre quarti Poi la conclusione Ma che gol è Grande Ale Grande Colnaghi Qua male Bisogna dire Ed è un gran gol Vabbè ha fatto sei miracoli Ci sta Ci sta Migliorati Beh vabbè ragazzi Migliorati L'uomo più veloce di sempre Nella Goat League Questo potrebbe essere Migliorati Vabbè però Colnaghi Guarda ha fatto una dormita Eh sì ha fatto una dormita Bravo però Migliorati Sono felice Di migliorati Perché è un nostro draftato È vero È un po' uno Della nostra cantera Eh sì Quindi due a due Tra muchachos e Ternals Quando sono passati Quattro minuti Nel secondo tempo L'hanno ripresa Vediamo Matthew Grande tecnica Quanto è alto Matthew Andiamo a vedere Se ce l'abbiamo Nelle Ah un e 90 ce li ha Occhio a Kitz Occhio a Kitz Sì Che è Un'altra via da fuori Matthew si ripropone Matthew Mamma mia Angolo Sì però Colnaghi La guarda troppo Colnaghi non benissimo Ma no Non è vero Non è vero Se lo faceva Ragnar Gli stavi già dicendo su Ma lui gli perdoni tutto Non è vero Ma allora Matthew è un metro Basta Basta creare queste cose Parte la conclusione Di fuori di poco Bravo Matthew è due metri e undici Come due metri e undici No Scherzo Non ce l'abbiamo insegnato Dopo glielo chiederemo No sarà 1 e 91 92 Quattro minuti sul cronometro Ragazzi Jay Pata Jay Pata in possesso palla Jay Pata che ha fatto un gol Potrebbe essere felice Però invece Vuole far felice Il proprio presidente Monta aperto Cinque minuti Dove i muchachos Hanno trovato il gol del pareggio Gli Eternals Sono un po' Schiacciati in difesa Gli Eternals Stanno sbagliando Gli fondamentali Tanti passaggi sbagliati Però come diceva Mirko I muchachos Giocano bene Giocano bene Ma sì ma La partita X era un bel giocatore Era da X Chissà Se alla fine della giornata Vediamo la grande chiusura Questa volta Da parte di Guarnaccia L'autore del gol del 1 a 0 La carta Negli Eternals Poi Brivio Con classe Brivio S'appoggia a Monta aperto Sempre Brivio Pressing timido Da parte di Migliorati Che ha finito La benzina L'unica E' che va a fare Pressing da solo E' come se l'altra squadra Stanno scollata E' scollata I muchachos In questo momento Prova ad andare Giocate individuali Che però non è riuscita Allora I muchachos Provano a ripartire Sempre con Meteo Che da quando è entrato Però ha cambiato Ha fatto proprio Uno switch La squadra Dell'Albi Celeste Vediamo Jay Pata 3 contro 3 Finita Questa volta Una grande chiusura Da parte di Pioto Disco Bravo Francesco Ragazzi in chat Le luci le stiamo accendendo Per accendere delle luci Si stanno accendendo Ok lo sappiamo Grazie Emilia Oh Adesso si accenderanno Un po' di più Prova Io voglio La punella di Brivio Vuole la punella Di Brivio ZV Jackson Per ora c'è solo La punella Che è più una punizione A noi Più che in gioco Quella di Jay Pata Quando tira Vedere una roba del genere Vediamo ancora Gli Eternals Che forse sono svegliati Jay Pata al limite E questo Vabbè è buono È andato in stand by Ha schiacciato il tasto Dello stand by Ha messo dieci minuti E poi parte lo screen save La conclusione Ancora La grande risposta Proprio migliorati Che ci abbiamo da dire Panciroli Bravi ragazzi Di questo Portier Era calzone Era calzone prima Migliorati poi La risposta di Colnaghi A oggi Comunque Il dottore Non è ancora intervenuto Ma non vedo l'ora Non vedo l'ora Ma con Jay Pata Magari No scherzi a parte Andiamo avanti Io confido in Elidalo In un ritmo Nella seconda partita Di Elidalo Ancora calzone Muchachos Che hanno In mano Il pallino del gioco Gli Eternals Che fanno fatica A creare occasioni Di gioco Sette sul cronometro Ragazzi Altri sette minuti E parte la ruota Che potrebbe Cambiare una partita Che sembra molto bloccata Esattamente Grande palla Ha trovato Il buco Dentro L'area di rigore La conclusione Debole Però troppo debole Facile per Colnaghi E allora Pata E allora Pata Caduto Subisce fallo Sono curioso Rivedere le statistiche Dei passaggi DJ Pata Credo sia ancora a zero Ma anche di guffi Dopo quasi 22 minuti di gioco 23 anzi Entra Nick Grazie Keenard Sento un vaffanculo Vaffanculo da Chiomi Tu che sei lì Tra l'altro Non è che noi Come sapete Non abbiamo spettatori Ma sono altre squadre Quindi è molto bella Stanno facendo La gente come noi Non colla mai Stanno facendo dei cori Fuori dal campo Sono arrivati gli Ultras Tra l'altro Tanto Nick Pirlo Dobbiamo fare il giro Chiediamo all'Ultras Di rimanere in stand by Che arriviamo a salutarli Ancora Brivio Ad organizzare Una foto espensiva Pirlo Pirlo Nick Pirlo Mamma mia Bello da vedere Qua però Ha perso un po' l'attimo Allora ripartono i Mucciacios Vanno dalla parte opposta Troppo lungo Anche il servizio Per l'attaccante Quindi facile per Conaghi Con la 5 di Bellingham Scusami Emma Come? Nick con la 5 di Bellingham Sembra un po' Bellingham Intanto Pata Prende la porta Però non sorprende Mattia Di Lillo Sempre 2 a 2 Massima È la seconda partita Che vediamo un pareggio Fino a questo momento Chiaramente Tanto equilibrio In questo torneo Solo la fucina Non è Vabbè Non Non Umbulizziamo la fucina Per favore La possibilità Per l'Eternals Con una conclusione centrale Dove Di Lillo Si mette lì E la para con calma Mancano 5 minuti E poi Il protagonista Sarà Omi Atol Io sono sempre Il protagonista Per mia mamma Allora Chianese Porta avanti il pallone Bello il pallone Colpo di tacco Per Kids Che prova a rientrare Con il mancino Capisce tutta la difesa Degli Eternals Che Dan Concedono la possibilità A Jay Pate Che continua la sua striscia Negativa di non passaggi E allora La maglia Dopo te la dà E questo È l'arbitro Lascia proseguire Si lamenta tantissimo Stuclin Gian Maria Autore del gol Beh Vini che lì È stato Attenzione Gioca la carta Allora il mister Gioca il rigore Ah Rigore Got roulette Allora Andre Dobbiamo decidere Io e te La squadra Degli Eternals Dobbiamo decidere Io e te Una persona A cui far battere Lo shot out Eh Ricordo che di là Ha tirato fuse gamer Aspetta sentite Ma perché proprio lui Vasco Vasco Eccolo lì Attenzione Vasco Prealpi No Eccolo lì Guardami Non c'è neanche bisogno Di nominarlo Io non ti devo dire niente Sai già come devi fare Capito Chissà Si prende il centro Della scena Vasco Prealpi No Un gol che potrebbe Cambiare le sorti Di questa partita Signori Tanto come ci vedete Noi in questo momento Abbiamo la luce Molto forte Sì Abbiamo più luce noi Che gli altri Ragazzi Ma no Ma è il mood Perché ci sono gli Eternals Quindi ci sono le tenebre Evoluta Si stanno Si stanno accendendo Vasco È pronto A tirare lo shot out Qualche consiglio di pata Su come prendere la barriera Che non c'è Vasco contro Di Lillo Possibilità per gli Eternals A quattro minuti dal termine Di passare in vantaggio Vediamo Bomber Vasco Prealpi Parte Mamma mia Incredibile Emozie Qua Pancio sta piangendo Parte Vasco È la para Con la mano di richiamo Di Di Lillo Bravo Mattia Bravo Non l'ha voluto sfidare Vasco Eh Mogio Mogio Se ne torna in panchina Va benissimo Vasco Va benissimo Chissà quante bestemme Stanno girando In quella testa In questo momento Mamma mia Il counter è impazzito Arriveremo a mettere in mica Che i giocatori Presto ma ci dobbiamo arrivare Perché è fondamentale Allora quindi si riprende Con un calcio Per i muchachos Con il portiere Di Lillo Comunque ragazzi Vi dico una cosa In chat Io ho aumentato la luminosità Ed ero un coglione io Adesso si vede benissimo Praticamente Vediamo ancora La possibilità Per i muchachos Con Kitz Messo giù Calcio di punizione Nick Mierle Dice alzati Pirlan Non gli dà la mano E allora Gli Eternals Qua Potevano aspettare Si poteva creare Una possibilità Bene va bene Jay Pat ha messo giù Due minuti e trenta Al termine E poi Omi Jay Pat Secondo me Anche alla play Lui c'ha un altro tasto Che tipo Clicca e cade Praticamente Anziché il passaggio Lui c'ha Quando uno È Al posto della X Atleticamente Col balle centro basso Succede Cioè i vostri La cerca ogni tanto No ma i loro Sono giganti Saranno tutti Un 85 Occhia a Nick Nick Pirlo Il Bellingham Degli Eternals Perché perché Sbaglia però Grande uscita Dei muchachos Che mettono È la possibilità Mamma mia Proprio lui Con il naghi Ancora bella parte Rosa Battista Eh Battista Sei un po' cagato qua Allora gli Eternals Provano ad uscire Parole strane Parole Non ripetibili Credo Vediamo ancora Sulla tre quarti La squadra in celeste Gli albi celeste Gli azzurri No come volete essere chiamati Mirko Muchachos Bella palla Gli azzurri E celesti Due minuti Ragazzi Alla ruota Che farà Terminare questa partita Che è veramente Però vi dico la verità Anche quella di me Sono due partite Che si è proprio alzato il livello O forse O forse era una fucina Che è troppo Ma la fucina Come sempre Regala contenuto Un giocatore Non si giudica Da un calco di rigore È vero Sempre lui Grande Questa volta La chiusura Degli Eternals Guarda Brivio Che fenomeno Brivio Brivio Pirlo Pirlo Grande lancio di Pirlo E lui e gli altri Non hanno capito Il lancio di Pirlo Perché era bellissimo Rivedibile Rivedibile Sì Assolutamente rivedibile Pallone lanciato dentro Troppo E finisce quindi In Dietro la porta difesa Da Colnaghi Che rimette subito in gioco È partito l'ultimo minuto È partito anche Gioipata Ma è in vantaggio E non di poco Francesco Pio Autodisco Dai Pungiamo ora Pungiamo ora Dice Mirko Gioipata però Riconquista palla È il numero 10 Degli Eternals Che passa la palla Ma effettivamente Le prime volte Che la passi Bisogna avere anche Del tempo Per imparare Vede i fantasmi Del passato Cioè? Che ha visto un fantasma Lì Del passato Ah ok È come Assassin's Creed Brivio Attenzione I Mucetto Hanno mollato completamente 15 secondi Alla ruota Ragazzi Pirlo Guadagna un calcio D'angolo Potrebbe essere L'ultima occasione Nei tempi regolamentari Per questo match Per gli Eternals Per andare in vantaggio Con Nick Pirlo Testa alta Dai ragazzi Pata non batte gli angoli No Abbiamo Biampirlo Starà male Finisce qua E ora La possibilità Per Omietol Di cambiare Le sorti Di questo match Allora Ci avviciniamo Ad Andre Ci avviciniamo Alla ruota Presidenti Partita Diciamo Bello Combattuta Abbiamo detto che era da X Sì 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 Vediamo un po' Se questa ruota Vuol far cambiare Cosa vorrebbero i presidenti Che uscissero nella ruota Cosa vorresti te Z Mi devo ricordare esattamente Z non si ricorda A me piace Facciamola vedere Facciamola vedere Eccola qua Io vorrei Un Due contro due Tre contro tre Sisal fan club Ah Allora Lo spicchio di Sisal fan club 2024 Ah no Non lo spoileriamo Ah ok ok Se esce lo vediamo Sì 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 Assoluto sì Siamo pronti Are you ready? No però Dagli una bella spinta Fatti dare la mano da Perché abbiamo solo una Quindi Attenzione Attenzione Credo non si fermi mai Che spinta La spinta bene qua Sì Occhio Occhio che potrebbe finire Sisal fan club Occhio Occhio Ed è Sisal fan club Eccolo qua Grazie Ancora una volta scriptata La ruota Ho provato a smarcarsi Prima Omiatore Adesso Dovrà Allora mi servono Un giocatore da una parte E uno dall'altra Che sta a piano di calcio Perché c'è Un quiz A tema calcio Di una domanda E chi vince Sceglie Lo spicchio Sono tre Due su tre Scusatemi Due domande su tre E chi vince Sceglierà poi Lo spicchio Beh ci vogliono Delle persone Acculturate A livello sportivo Ragazzi qua Anche l'allenatore Può essere scelto Ma Pata vuole giocare Anche questa Ah no Però Pata Guarda che tu scherzi Ma lui di calcio ne sa Vediamo Essendo uomo Calcio Che comunque giocava A livelli Ne sa Cioè secondo me Il più di me Mister Pata E dall'altra parte Il mister Spartac Praga Spartapata Spartapata Mister Spartapraga Contro Jay Pata Jay Praga Allora C'è un po' di tensione Ragazzi Allora Prego Andre Sono domande sul calcio Eh no Allora sono Sono È al meglio di tre Quindi chi ne indovina Prima due Ha vinto Allora Occhio che sta guardando Pata Ragazzi Non possono suggerire Eh? Non possono suggerire Ma cosa siete? Ragazzi in panchina Dai Allora Facciamo tirare via Chiedo anche alla regia Tutti via Tutti via La sicurezza Di fare Fate spostare Per favore I suggeritori da lì Per favore Chiedo un attimo Di aprirvi Comunque Posso dire Sto leggendo la chat Tutti scrivono truccata No raga Io ho sparato Veramente a caso Vabbè Ma anche che pensano Così è carina Test Vai Sì Ok Io lo sento Ok Perfetto Allora Premilo Pata Premilo tutto Possiamo partire Con la Prima domanda Non guardare Spartapraga Per favore Quanti pallini Ha vinto Cruif Quanti palloni D'oro Ha vinto Cruif Non guardare Due Quattro Cinque Tre Antonio Ebbè Risposta Esatta Prossima domanda Siete abituati in piscina A queste challenge Anto per favore In quale edizione Si è giocata L'unica partita Degli europei Decisa al Silver Goal 2000 2004 2008 2016 Dici Silver Silver Goal 2004 2000 1 A 1 Perfetto Era giusto 2000 E non solo Le amiche di Max Allora per favore Andre Andiamo avanti Quindi adesso Chi vince vince Sì chi vince vince Aia Aia Attenzione E' valido Attenzione E' 2004 La giudicheremo poi In prescrizione Allora Aspettate che è arrivato L'elicottero del presidente 2000 Qua vince Allora Ultima domanda Seri Seri Questa la sa Quale tra questi stadi Ha maggiore capienza Tra questi Stadio Meazza Stadio Alien Stadium Stadio San Nicola Stadio Artemio Franchi Meazza Giusto E allora Vincono E hanno l'opportunità Di decidere Quale spicchio Giocarsi In Mucciaccio Quindi andiamo Un attimo Io non so se vogliamo Farlo Non l'avevamo mai pensato Vogliamo farlo decidere All'allenatore Quale spicchio Visto che ha anche vinto Ma va bene Penso anche Tutta la squadra Allora Sì dai No no Si è messo in gioco Vai vai Tanto ragazzi Vai Tanto è Tanto è Non è che avete vinto Scegli uno spicchio No devi scegliere uno spicchio Scegliete uno spicchio Veloci E poi si gioca Raga E poi c'è Pata Jay Pata Non hai preso nessun gol Con questa sconfitta Vediamo Sparta Praga Stanno scegliendo Quale spicchio Gli conviene Ricordo che siamo Tra l'altro con gli Eternals Stanno scegliendo Il 2 a 2 È giusto C'è il mister Coriglia Chi è che se la sente Chi se la sente Shut out probabilmente Ci sta Ci sta Shut out È più divertente Dai Attenzione Stanno parlottando In Mucciasso 15 secondi 14 13 12 10 Se non scego io 9 8 Anzi se non scegli E Pata 7 6 5 4 3 2 1 Capitano 4 contro 4 No 4 contro 4 Sì più il portiere Quindi è 5 contro 5 Mi piace questa scelta Mi piace Un po' di futsal Un po' conservativa Un po' di fe Un po' conservativa Secondo me vogliono Hanno paura di vincere Un po' come il Napoli Di Rudy Garcia Forse Vogliamo giocarcela sul campo Ragazzi Quindi dobbiamo vincere Seriamente Allora No no Sbagliato Scusatemi ragazzi È 4 compreso il portiere Per cui giocano 3 Più il portiere Sì Un po' 3 più il portiere Meno futsal Quindi 3 contro 3 Più il portiere Ragazzi È 3 con il portiere Signori Occhio Perché ho appena visto Che cosa Che nella prossima partita Tra poco Il pomo De Palagianello Entrerà in campo Alla Golden Alla Got League Scusate Eh Golden Stake Tra poco Ma chi è il pomo di Ah no Tra poco scusate Atletico contro Pegasus Prima Chiedo scusa Quindi Campolunghi L'esordio di Campolunghi C'è una sfida TikTok Italia Sì è letteralmente Col pallone d'oro Infatti tutta la live Si trasferirà su TikTok Cioè qui ci viene Allora ragazzi Partiamo Che è la partita più lunga Dalla storia della Got League Questa qua Ci siamo Ci siamo Chiarissimo Allora ragazzi Specifichiamo che In Nel Battle Royale Non si possono fare cambi Ma quando ci sono Gli ultimi tre minuti Che finiscono Quattro contro quattro Tre contro tre O due contro due Si possono effettuare Cambi da parte Degli allenatori Vediamo chi parte Allora da una parte C'è Chianese C'è Migliorati C'è Migliorati Sicuramente E forse Stöcklin No Credo Stöcklin Mentre dall'altra parte È rimasto Pata Brivio E chi c'era? Alex Calulu Ultimi tre minuti di fuoco Vediamo se la ruota Sblocca la partita Che è Incannellata Verso un pareggio triste È già partita prima Grande tattica Nonostante questo È arrivato prima Migliorati Però prosegue la corsa Pata E porta avanti la squadra Guarda come la chiamano a pressare Pata si sta mettendo Sulle spalle Gli Eternals Possiamo dirlo Play to give Eternals Qualsiasi squadra Sulle spalle Vediamo come arriva però Esatto A oggi Quando sono troppe squadre Hai capito che Si sente la pressione È certo Allora Di Lillo in verticale A cercare Il bomber Migliorati Presa il draft Pensa la conclusione Facile per Colnaghi E allora Gli Eternals Toccano il primo pallone Di questo supplementare Con Brivio Sale anche Colnaghi Sale anche Colnaghi Però rimane dietro Inspiegabilmente Montaperto Eh beh Difensore Giusto Però sale il portiere Sale il portiere Un po' alla Sergei Un po' alla Sergei Questo pallone Per Jay Pata Che riesce a tirare molto bene Si è buttato un'altra volta Chianese Riconquista il pallone Patrizio Chianese Un altro rispetto alla prima Got League Non so se ti ricordi Meno spaisato Grande giocate È più libero mentalmente Bravo Patry Bravo Beh diciamo che gioca anche In una squadra I Goldest K Che ci ricordano Io se non so come sarà Io non me la ricordo addirittura Una delle squadre Veramente C'era Gilbert C'era Gilbert Nana Basta Poi c'era quella che doveva essere Il Bappé Che non è stato Che è stato un Bappé Per mezza partita E poi è andato via E allora E ancora I Mucciacios Che provano ad organizzarsi Con Antonio Calzone Che vede Alla sua destra Ma non sta in piedi Sono già Sono già cotti Praticamente I Mucciacios Sempre Calzone Beh hanno avuto il viaggio Grande giocatore Calzone Però forse palla Riesce a mantenere Il possesso del pallone Pressing altissimo Da parte degli Eternals Ultimo minuto della ruota Signori Per vincere Perdere o pareggiare Questa partita Palla i Mucciacios Che devono buttare il cuore Oltre l'ostacolo Qui tu Attaccheresti al massimo Purtipendere Occhia migliorati Migliorati E poi un autogol No No Praticamente Angolo Ma no Ma non è uscita È super santo Praticamente Privio ha provato a farsi autogol Chissà Se ci sarà un seguito Delle indagini Perché praticamente Letteralmente Ci sono anche delle proteste Andiamo a rivedere il replay Migliorati qua Sgasato E poi proprio Privio con un tocco Bellissimo Giustezza No Se vincevamo così Attenzione però Perché viene richiamato L'arbitro Giocata la carta Che c'è Andrea Una carta No è VAR No è stata giocata La carta VAR Per cosa è stata giocata La carta VAR Si chiama strategia Vogliamo respirare un attimo Vediamo col VAR Se è fuori Vabbè questi fanno Le politiche aziendali Si chiama Allora Quattro secondi dal termine Chiama la VAR Ah No ma perché Gli è andato l'angolo No per calcio d'angolo Però va bene Due a due Quindi aspettiamo Il risponso del VAR Ah io dico all'arbitro Che può anche far finta Di non vedere Cioè vai in vista Hai due minuti Guardi un attimo No no ma confermo E poi via Sì Sì ci sta Vabbè Ragazzi voi in chat Come va? Allora Quell'esercito Dove c'è Allora Atletico al VAR E Begasus Ragazzi È la prossima partita Ok Tra poco La squadra di Campolunghi Contro quella di Sespo Una sfida tra tiktoker Tu c'è Gli ami molto Gli ami molto Io sì La guarderò con interesse Arriva l'arbitro Chi non cambia idea È coglione Palla non è uscita Giusto Giusto Grande Grande Arbitro Anche arbitro E filosofo Bernard Vitrale Incredibile Che quindi c'è la ragione Pata Eh ma non era fuori Eh sì Una volta nella vita Si riprende quindi Forse con l'ultimo salto Per gli Eternals Non so se c'è Penso l'ultimo giro D'orologio Forse l'ultima azione Ancora Colnaghi Dove va? Che va Verso il centro Del campo Brivio Colnaghi Eh Qua un po' La sprecata malamente È la sprecata sì Però c'è ancora tempo C'è ancora tempo Minutino non si è giocato Per questo Vediamo ancora La squadra Dei Mucciaccios Che prova ad andare Migliorati Con Migliorati Non è il fischio finale È soltanto il fischio Per un fallo Arriva anche il cartellino giallo Per Brivio Uno dei Gli ultimi trentese secondi Per Brivio Un incubo Occhio a Migliorati Occhio a Migliorati Che la vuole provare Tira 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 La giocano Vai Va Migliorati Parte Il cross Dalla parte opposta E Un ragazzo La tiene Bravo La tiene Ma finisce qui Due a due Due a due Tra Mucciaccios La terza partita Della Gottelega di oggi Beh 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 Posso dire una cosa Io ho notato Non so voi cosa ne pensate Presidenti Forse un po' Tutte le due squadre Hanno avuto paura di vincere Spese voi Alla ruota Io mi aspettavo Uno contro uno Cioè due contro due Uno contro uno Più il portiere Andiamo dentro Eh Purtroppo hanno scelto così Ma anche shootout C'era però Abbiamo voluto giocare Sul campo Più che altro Shootout era figo Eh sì Shootout avremmo visto La vittoria di una delle due Questo Primo punto Un punto a testa Sei contento Ci sta Ma a me va bene un punto Come avevi iniziato la summer Sempre con un punto No con la vittoria No forse una vittoria mi sa Però comunque È una bella squadra loro Quindi mi va bene Però aspettavi così Sì 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 Andre Ho due pupilli Della squadra di ZV Eccoli qua L'allenatore E Vasco Ragazzi Come commentate Questa primissima partita Una sorpresa Vedere Vasco in campo Una sorpresa Che oggi è Il giorno del compleanno Di Vasco È vero ragazzi Eh Tanti auguri Già Ragazzi Tanti auguri A te Un compleanno Con assist Meglio di così Beh c'era lo shout out Vasco Grazie mille ragazzi Allora Torniamo un attimo qua Che adesso diamo la linea Dalida Ma prima volevo chiedere Ai presidenti Stasera Avete organizzato qualcosa Io ho un po' fame Ma porterai fuori la squadra a cena Pagano loro perché hanno pareggiato No 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 Devo fare il presidente Mi tocca Ah ti tocca Quindi offri tutto te Stasera non penso Penso l'ultima giornata di Gott Anche perché tra poco A tu hai promesso qualcosa Ho visto che il penguin Dicono che abbia promesso 500 euro Al calciatore In caso di vittoria Sei serio? Sì Questo è il post che ho letto Beh I nostri giocatori Danno l'ora a noi No No I suoi problemi Giusto Da lì si capisce il pareggio No tra l'altro Perché non vogliono pagare No comunque A parte che Cioè Penso che mangeremo al volo qua E Poi stasera Ma no Pago la fine Pago la fine Sì Hanno paura anche a dichiarare Rispecchiano proprio le squadre In qualsiasi modo Dovesse finire il nostro torneo La cena finale è pagata Oh È una cosa L'abbiamo portata a casa Eh ce l'abbiamo Allora Salutiamo i presidenti Grazie ZV Grazie mille Ci vediamo Presidente Grazie Io sogno un Stai rovinando questa società Io spero di non dirlo male Perché vuol dire che stiamo andando male Quindi spero di non dirlo Ragazzi Allora grazie presidenti Buon appetito Grazie Ci vediamo tra poco Grazie Grazie